Bella a tutti ragazzi, benvenuti con una nuova parte di Mario Sonic e giochi olimpici, parte numero 3 Nella scorsa parte abbiamo fatto Circuit of Venere, questa parte facciamo circuito giove Con Luigi ragazzi se vi ricordate Perché appunto, faccio cercare il cambio con Nacos, ho citato Luigi Perché nella scorsa parte abbiamo fatto un Nacos Andiamo a Luigi e adesso devo stare di nuovo Luigi Andiamo a posteremo di nuovo Nacos Io vediamo Accetto Non fai così per far notare a Luigi Certo, l'uno ha una sua particolarità E poi che ti danno un video che mi accorgo giusto per caricare il cuore Non farà il timing giusto, attivanti si carica poco Dai Luigi Tutta la linea così fai record Ok, anche il record Si cresce pure Si cresce pure Da sta faccia La faccia La faccia mondiale è avuto i punti Oh ragazzi se Oh ragazzi c'è S'ha stato triplo Quindi stiutino ciuc Mettetelo Ok, no Non posso farlo Tre salti Un Due Tre Come Adesso Vedo Ve lo farò vedere Guardate un po' Che palle Triple Per comunque si fanno tre salti E io Sono bene con Uno bello schifo Infatti sono terzo Sicuramente fa di più Ah fantastico benissimo Oh ragazzi ho fatto 17 Ho guardato un po' Vista ragazzi ho detto Dove è fantastico E sono prima Ok ragazzi facciamo L'altro Vittimo di fare tre volte fantastico Così facciamo record E che fare niente Guardate ho fatto meno di prima Uffa mi è porco vabbè Ho fatto ancora meno di prima E te racconto vabbè Prima con E altri sono a 30 E Vector ha superato pitch E mi è per te balser ha superato E mi è per se è la domanda Un Due Tre One Two Three E basta Attenti poi io prendo il suo tempo a fare A vedere quattro replay Ok ragazzi via Allora L'utilizzo evento che è tanto più facile Eeeh Due metri Tre metri Doveva andare a sei metri Per Fare con cos'altro Doveva putto Eeeh Incai a B E puoi Eeeh Ruotare il Tecomando Che palle Che cavolo Odo fantastico Vediamo un po' Cosa ho fatto Nove Nove Cinque Vabbè Vabbè ragazzi In cinque minuti Ho finito sto circuito E sono a quattro punti I punti Massimo che si può arrivare E mi terza Bowsero Secondo E io primo E c'è il nostro trofeo Che Eeeh Il cristallo Ok ragazzi Ce l'ha finito sto Staparte I cinque minuti Ma vabbè che Ci vuol poter fare E perciò di Le aggazione tre Vabbè Per adesso sono Corti gli eventi Cioè i circuiti Ok ragazzi Ci vediamo con la prossima parte Dove faremo Il prossimo circuito Da cui ragazzi Sarà un po' diverso Lo copriremo Alla prossima Ciao Ciao